Musica Come annunciato dagli esperti, una nuova ondata di freddo artico si è abbattuta sulla nostra regione in queste ore, riportando la neve in gran parte dei centri molisani. Questa mattina il capologo di regione si è nuovamente svegliato e imbiancato. A Campobasso infatti sono caduti altri 25 cm di neve. Una nuova emergenza per la gestione della quale ieri pomeriggio è tornato a riunirsi il centro coordinamento soccorsi su cui hanno preso parte i referenti delle forze di polizia territoriali, dei vigili del fuoco, del servizio regionale di protezione civile e i responsabili dei servizi pubblici essenziali come Enel e Moliseacque di Anas e Provincia. Intanto la neve caduta nelle ultime ore ha spinto molti sindaci a sospendere per la giornata odierna le elezioni. Colle d'Anchise, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardiareggia, Limosano, Mirabello Sannitico, Rionero Sannitico, San Massimo, Sepino, Spinete, Toro, Trivento e Tufara. E' stato il comune di Boiano ad avere la meglio nella pluriennale controversia contro Moliseacque per le forniture idriche alla popolazione. A dare ragione all'ente Matesino è stata la Corte di Cassazione che a sezioni riunite con sentenza ha definiti irrevocabilmente l'annosa problematica che vedeva contrapposti incontenziosi di svariati milioni di euro il comune di Boiano e la società molisana. L'amministrazione municipale ha visto riconosciute le proprie ragioni mentre le richieste di circa 8 milioni di euro avanzate da Moliseacque a lente sono state respinte. Il comune di Boiano ha visto le sue ragioni riconosciute dal Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli e poi in appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche di Roma. Ora la Cassazione ha posto la parola fine riconoscendo al comune di Boiano le sue ragioni. Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati predisposti dai carabinieri durante il fine settimana appena trascorso tra Venafro e i comuni limitrofi. Diverse le pattuglie del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni territorialmente competenti impegnate nell'azione di monitoraggio affiancate da unità cinofile antidroga. Posti di blocco sono stati istituiti anche lungo le arterie di collegamento con i centri confinanti della provincia di Caserta. Il bilancio delle operazioni parla di 70 veicoli controllati, 95 persone identificate e 8 violazioni riscontrate in materia di codice della strada. Due veicoli sottoposti a sequestro poiché immessi in circolazione, privi di copertura assicurativa. Numerose le perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Ancora controlli specifici sono stati eseguiti a carico di 7 pregiudicati attualmente sottoposti a misure cautilari o di prevenzione. Infine i militari hanno effettuato accertamenti amministrativi in materia igienico-sanitaria presso 5 locali pubblici di intrattenimento anche nel corso della notte. Guadagnare salute di età mediterranea Questo è il titolo del corso ECM promosso da Neuromed in collaborazione con Samnium Medica, Asle di Benevento e Coldiretti. L'iniziativa rientra nel programma Guadagnare salute definito a Copenhagen nel 2006 per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche. Si tratta di un progetto che ha favorito anche in Italia la promozione di azioni volte a modificare gli stili di vita e di comportamenti individuali mediante interventi che incidono sui fattori di rischio. La dieta mediterranea, spiegato nel corso dell'incontro il professor Giovanni Di Gaetano responsabile del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione di Neuromed rappresenta non solo la nostra tradizione ma anche un'abitudine alimentare che per anni ha tutelato la popolazione da patologie cardiovascolari e dai tumori. Oggi però, ha aggiunto, stiamo assistendo ad un graduale abbandono della dieta. Guadagnare salute punta ad un'efficace collaborazione tra tutte le componenti sociali la cui azione, per via diretta e indiretta, incide sul benessere complensivo dei cittadini. Accanto alle buone abitudini, infatti, è necessario che anche i prodotti inseriti all'interno della dieta siano di qualità. Il professor Di Gaetano ha infine ricordato che la dieta mediterranea non riguarda solo i cibi da mettere in tavola ma anche il modo di consumare i pasti, di vivere le relazioni sociali e combattere le cattive abitudini come la sedentarietà, l'abuso di alcol e il tabagismo. Tanti appassionati di nuoto e non solo sono arrivati presso la piscina provinciale di Venafro per incontrare e salutare il campione olimpico Massimiliano Rosolino in città per partecipare alla manifestazione organizzata dalla Swim Academy. A Venafro, il campione di nuoto partenopeo, ha portato il suo messaggio ai ragazzi della squadra agonistica e ai bambini della scuola di nuoto. L'ambiente acquatico, ha detto, regala emozioni al primo tuffo però se il tuo sogno è quello di diventare bravo, di essere un campione il percorso è molto più lungo e bisogna impegnarsi di più. Una giornata importante per i ragazzi dell'agonismo che ha potuto partecipare ad un allenamento tecnico motivazionale e porre domande a Rosolino. A loro, ai più piccoli, l'atleta ha lanciato un messaggio chiaro quello di non arrendersi e di provarci perché il nuoto fa bene ed è fortemente educativo. Non è infine mancato un appello alle famiglie Massimiliano Rosolino ha evidenziato che nel mondo del nuoto c'è l'esigenza che un numero maggiore di persone si avvicini e si adoperi portando i propri figli a fare un percorso avviamento all'acqua e avviamento alla fase pre- ed agonistica. Un percorso che darà la possibilità di far emergere qualche campione.